Bo! Bo! Bo sei con noi! Ciao amici! Lui è Daisy e io sono Bo, il mago! Siete pronti a partire? Bo sei con noi! Bo sei con noi! Bo sei con noi! Tutti insieme andiamo dai! Il movimento è via, mi date l'energia Per poi salire su! La bo potenza è qui, si è bella che così Bo! Bo! Bo sei con noi! Se c'è da fare stai, ti aiuteremo noi Muovitivi e anch'io lo farò Non smetteremo mai, ci muoveremo e poi La bo potenza riceverò! Bo sei con noi! Bo sei con noi! Bo sei con noi! Tutti insieme andiamo dai! Massima Bo potenza! Bo è il ladro di quadri Non riesco a spiegarmelo! In questa cornice avevo messo un mio dipinto Daisy, hai visto il dipinto che ho fatto per te? L'avevo messo proprio qui in questa cornice No! E tu hai visto il mio disegno della macchina dei pompieri? No! Amici miei! Che bello che siete di nuovo qui! Credo che qualcuno abbia rubato i nostri disegni e i nostri dipinti No! Dobbiamo scoprire chi è stato! C'è soltanto una persona che può saperlo! Il mago! Ho bisogno del vostro aiuto per farlo apparire Volete aiutarmi? Grazie mille, amici miei! Ma vi avverto, bisogna impegnarsi molto per riuscirci! Dobbiamo entrare nella nostra bozona! La bozona! Coraggio, amici miei! Liberate lo spazio davanti a voi in modo da potervi muovere! Spostate qui i giocattoli e tutto il resto Così entriamo in azione presto e presto! Create la vostra bozona! Ci siamo quasi! Ecco! Finalmente siamo pronti a far apparire il mago! Mettetevi al centro della vostra bozona! Puntate il dito in aria! Così! Adesso ruotatelo per benino! Continuate a ruotarlo! Veloce, veloce, più veloce! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza a brillare fate! Funziona! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Ora con l'altra mano! Ruotate, ruotate, ruotate! Il mago sta per arrivare! Massimo bo' potenza! Il mago! Sì! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo riusciti a farlo apparire! Salve, Desi e Boo! Che cosa mi dite? Beh, a dire il vero! Pensavamo che fossi tu a dirci chi ha rubato i nostri... Non ditemelo, non ditemelo! Qualcuno ha rubato i vostri disegni e i vostri dipinti! Come fa a saperlo? Il mago sa tutto! Allora, chi potrebbe essere stato? Fatemi vedere! Aha! Come immaginavo! È stato il ladro di quadri! Ehi! Quello è il mio disegno della macchina dei pompieri! Il ladro di quadri continuerà a rubare e rubare tutti i disegni e dipinti che possiate fare! Ogni dipinto e disegno artistico ama osservare! Ruberà tutti quelli che riuscirà a trovare! Con questo vuoi dire che il ladro di quadri riuscirà a rubare tutti i disegni e dipinti di tutto il mondo? Temo proprio di Sibo! Amici miei! Immaginate un mondo senza arte! Niente più bellissimi disegni e dipinti colorati! La vita sarebbe talmente triste! Nessuno vedrà mai il mio disegno della macchina dei pompieri! C'è soltanto una cosa da fare! Dobbiamo trovare al più presto il ladro di quadri e fargli smettere subito di rubare tutti i disegni e dipinti del mondo! Per trovare il ladro di quadri dovete entrare nella camera delle porte! La camera delle porte! Aprire tre porte, non una di più! Dietro la porta numero tre troverete ciò che cercate! Ecco, guardate! Wow! È il ladro di quadri! Trovate quelle tre porte e troverete il ladro di quadri! Grazie mille, mago! È stato un piacere! Ora sarà meglio che voi e i vostri amici entriate in azione! Quindi bisogna trovare tre porte! Per far apparire la prima porta, dobbiamo correre sul posto! Siete nella vostra bozzona! Bene! Allora conto fino a tre, poi correte con me! Uno, due, tre, via! La camera delle porte! Coraggio, amici miei! Muovetevi veloci oppure lenti! Ma aiutatemi! Forza, forza, forza! Potete marciare... ...o camminare! Ma non vi potete fermare! Oh-oh! Sto esaurando la mia energia! Correte con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Correte tutti quanti! Dobbiamo arrivare a quella porta! Massima potenza! Forza, amici, correte! La porta! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo arrivati alla nostra prima porta! Guarda! Che cos'è quello? Credo proprio che sia un emu, Daisy! Un emu è un uccello che però non sa volare! Vediamo se ce n'è qualcuno lì dentro! E' chiuso! Ci occorre la chiave! Una chiave volante! Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Super fantastico! Allungatevi più che potete! Come una torre! Mettetevi sulle punte dei piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo! E... Saltiamo! Chiave presa! Ottimo lavoro, amici miei! Forza! Oltrepassiamo la porta degli emu! Su, entriamo! Wow! Guarda quanti emu ci sono! Si divertono tanto a farsi fotografare! Fanno fotografie molto divertenti! Vedete la nostra prossima porta? Guarda! Eccola lì! Coraggio, amici miei! Questo sì che è un gioco divertente! Oh! Oh? Ehi! Emu, fateci passare! Come possiamo fare se gli emu non ci fanno passare? Benvenuti presso la galleria fotografica degli emu! Oggi per gli emu è la giornata delle fotografie! Il loro turno stanno ad aspettare! Nessuno faranno passare! Non c'è spazio per avanzare! È inutile sperare! Ma con le penne magiche degli emu, verso la vostra porta potrete volare! Riuscire a volare con le penne magiche degli emu? Ma come possiamo fare? Per riuscire a volare in alto con le penne magiche degli emu e superare la loro galleria fotografica? Dovete imitare un animale! Imitare un animale! Amici miei! Potete aiutarci a scegliere un animale! Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per volare in alto con le penne magiche degli emu? Un pipistrello che vola! Un pinguino che ondeggia! Un insetto che cammina! Un pipistrello che vola? Ottima scelta! D'accordo, amici miei! Per volare in alto con le penne magiche degli emu dobbiamo battere, battere, battere le ali come un pipistrello! Guardatemi! Desi è un perfetto pipistrello verde che vola! Imitiamo dei pipistrelli che volano! Siete nella vostra bozzona? Fantastico! Allora conto fino a tre poi fate come me! Uno due tre via! Muovete le braccia, amici miei! Allargate le braccia e battetele! Muovetele in su e in giù e riuscirete a volare sempre più in alto! Attento, Desi! Forza, amici miei! Muovete le braccia veloci! Continuate a muoverle! Non fermatevi! Oh oh! Mi serve altra energia! Muovetevi come me, amici miei! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Massimo Bo potenza! Forza, muovete le braccia in su e in giù! Ancora un altro po'! Così arriveremo alla porta! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo riusciti a superare la galleria fotografica degli emu! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Andiamo, amici! Ballate con me! Davvero un bellissimo ballo, amici miei! La seconda porta! Guarda! Un cucciolo! Un cucciolo che dipinge! Non vedo proprio l'ora di entrare! È chiuso! Ci serve un'altra chiave volante! Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci! Come un albero! Punta di piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo! E... Saltiamo! Sì! Presa! Grazie, amici miei! Forza! Oltrepassiamo la porta del cucciolo che dipinge! Da questa parte! Cuccioli! Che dipingono? Beh, non è una cosa da tutti i giorni! Riuscite a vedere la nostra ultima porta? Guarda! Eccola lì! Forza, amici miei! Dobbiamo raggiungere la porta! Ehi! Su, cuccioli, fateci passare! Eh? Come facciamo a passare se i cuccioli ci bloccano? Benvenuti nella classe dei cuccioli che dipingono! Questi cuccioli, mentre dipingono, non devono distrarsi! Ogni minimo movimento gli impedisce di concentrarsi! Se i cuccioli vedono che vi muovete, la strada bloccata vedrete! Quindi è meglio che vi abbassiate e molto lentamente camminiate! Dobbiamo abbassarci e dopo lentamente camminare! Come possiamo fare? Per abbassarvi, camminare lentamente e superare così questa classe, dovete imitare un animale! Imitare un animale! Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale! Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per abbassarci e camminare il più lentamente possibile? Un cavallo che galoppa? Una giraffa che cammina? Una lenta tartaruga! Una lenta tartaruga? Ottima scelta! D'accordo, amici miei! Per abbassarci e camminare il più lentamente possibile, in modo da non farci vedere dai cuccioli, dobbiamo abbassarci e camminare lentamente come una tartaruga! Guardate me! Daisy è proprio una perfetta tartaruga verde, grande e lenta! Abbassiamoci e camminiamo come lente tartarughe! Siete nella vostra bozzona? Bene! Ora conto fino a tre, poi fate come me! Uno, due, tre... Camminate! Camminate! Camminate lentamente, con le mani e i piedi a terra! Se attenti e lenti vi muoverete, nessun rumore voi farete! Attento, Daisy! Camminate tutti come tartarughe, per favore! Ma se ci vede un cucciolo, dobbiamo fermarci! Immobili tartarughe! Restate immobili il più possibile! Non muovete le mani o i piedi o le ginocchia! D'accordo, tartarughe! Riprendiamo a camminare lentamente! Oh-oh! Ho poca energia! Su, camminate, tartarughe! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Sì, mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Massima bua potenza! Fermi! Ora ripartiamo lentamente! Camminate, tartarughine! Su, ancora un altro po'! Passettino dopo passettino, Alla porta arriveremo tra un pochino! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Abbiamo oltrepassato la classe dei cuccioli che dipingono! Ci siamo riusciti, anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Andiamo, amici! Ballate con me! Davvero un bellissimo ballo, amici miei! Sembra che quel cucciolo abbia voluto darti qualcosa, Daisy! Oh, un bellissimo disegno! Wow! Ora il disegno è cambiato! E cambia continuamente, Daisy! Wow! Amici miei, deve trattarsi di un quadro che cambia sempre! L'immagine cambia ogni volta che qualcuno la guarda! Dovresti portarlo con te, Daisy! Non si sa mai! Potrebbe tornarci utile più tardi, sai! La terza porta! Il ladro di quadri! Non è chiusa! Coraggio, amici miei! È arrivata l'ora di impedire al ladro di quadri di rubare tutti i disegni e dipinti che esistono al mondo! Wow! Daisy, guarda quanti disegni e dipinti! Amici miei, indovinate un po' chi vive qui! Il ladro di quadri! È incredibile! A lui piacciono davvero tutti i tipi di disegni e dipinti possibili! Ehi! Il mio disegno della macchina dei pompieri! Se solamente il ladro di quadri avesse un dipinto o un disegno che fosse capace di non farlo annoiare mai! Così non gli verrebbe voglia di rubare tutti i disegni e dipinti degli altri! Ma cosa potremmo dargli? Questo! Questo! No, grazie, Daisy! Adesso non posso guardare il tuo quadro che cambia sempre immagine! Sono occupata a pensare a qualcosa che... Aspetta un attimo! Il quadro che cambia sempre immagine! Cambia immagine ogni volta che qualcuno lo guarda! Con questo il ladro di quadri potrà vedere tutti i disegni e dipinti del mondo! Bravo, draghetto Daisy! Sei un vero genio! Datti da fare! Amici miei, state a guardare! Ehi, ladro di quadri! Guarda che cosa ho qui! Wow! Ma è il mio disegno! Grazie mille, ladro di quadri! Amici miei, sembra proprio che gli piaccia! Il ladro di quadri, la sua felicità, non fa altro che mostrare per ogni disegno e dipinto che appare! Wow! Ecco! Ho finito! Amici miei, è bello aver ritrovato i nostri disegni e i nostri dipinti! Sapete, abbelliscono così tanto il castello! Sì! Ci siamo dati davvero molto da fare, amici miei! Siamo riusciti ad impedire che il ladro di quadri rubasse indisturbato tutti i disegni e tutti i quadri del mondo! Anche grazie a voi! Siete ancora nella vostra bo-zona? Allora facciamo un altro ballo di Bo! Il ballo di Bo più sfrenato di tutti! Ci siamo riusciti? Anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Forza, vediamo che ballo sapete fare poi! Coraggio, amici miei! E ricordate, continuate a muovervi e sempre in azione! Perfetto! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.